Di nuovo insieme con le pagine di Sport, partiamo dalla Nazione con il Perugia, il calcio in primo piano, era parlato il Presidente Santo Padre a mettere un po' di punti fermi in questo momento difficile del Grifo, credo in Bisoli e nei play-off, ha detto il numero uno di Pian di Massiano, tecnico della nostra fiducia, mi dispiace per i tifosi, non stiamo dando quello che loro meritano, il direttore tecnico Retti dice devo vigilare e migliorare la qualità del gioco, intanto però problemi per volta del Prete e Rizzo, solo a metà settimana i verdetti, il giudice sportivo ne ferma tre, Perticone, Eramo e Fulignati in casa Trapani, prossimo avversario della formazione bianco-rossa, avanti con Bisoli dunque il Presidente Santo Padre interviene non a gamba tessa ma calmo e sereno per fare chiarezza e sgomberare il campo da dubbi dopo un campionato alle di sotto delle aspettative, noi stiamo con il nostro allenatore perché abbiamo fatto un mercato per lui, perché lo riteniamo valido per poter conquistare un posto X che per noi è ancora un piazzamento nei play-off. Dunque rinnovate ambizioni dal numero uno del Perugia, a proposito di numeri uno con la Nazione, c'è un approfondimento sul Presidente del Città di Foligno Damaschi, quando il calcio è divino, titola il quotidiano fiorentino, il Presidente vanta una cantina con oltre mille etichette, dice sono le mie passioni, intanto la squadra cerca il Brindisi in Coppa, oggi sfida alla San Giovannese, gara unica, si gioca in Toscana, il preparatore dei portieri Carletti dice impresa possibile, ma è stata una giornata, sono stati ore e giorni davvero caldi per il calcio Umbro di Serie D, perché ci sono state due dimissioni di allenatori, a partire da quella del Città di Castello, Cerbella, panchina affidata a Silvano Fiorucci, il tecnico Lascia, sono venuto meno i presupposti con la società, i propositi del nuovo tecnico li abbiamo sentiti anche nel nostro notiziario sportivo di ieri, ancora con la Nazione, Jandanovic made in Umbria, ecco i portieri Sventa Rigori, intanto Parilla Basket scatta stasera la Final Four. E allora noi andiamo al messaggero, Grifo ai play-off con Bisoli, ha il senso dell'intervento della presa ferma di posizione del Presidente Santo Padre, che spiega la fiducia, abbiamo fatto il mercato per aiutarlo, non per mandarlo via, diamo ai nuovi il tempo di inserirsi, ci dispiace per i tifosi, ora le persone che soffrono di più, siamo proprio i agoretti, non siamo soddisfatti, nulla è perduto. Nessuna ramanzina contro il Trapani, i giocatori sanno quello che fare per dare una gioia ai nostri supporter. Intanto vigilia per una sfida di Coppa per la Sirsafeti Sirsicoma, domani primo atto con la corazzata Dinamo Mosca. Kovac dice mettiamola in difficoltà sulla ricezione, si gioca al pala evangelisti. Dicevamo dei movimenti sulle panchine Umbre, l'abbiamo detto del Città di Castello, Cervella Senevari torna a Fiorucci, c'era stata anche un'altra dimissione lunedì sera, quella di Bocchini in Casa Gualdo, Casa Castale, ebbene si dimette pure il direttore tecnico Danilo Moroni, in Casa Gualdo Tadino, quindi ora questo ruolo viene assunto dal direttore sportivo Gagliardini. Foligno sfida la San Giovannese per correre in Coppa, appuntamento dunque oggi alle 14.30, si profila 1-4-2-3-1 messo in campo da Battistini. Con il Corriere dell'Umbria, detto del Perugia, Santo Padre non cambia rotta, il Presidente del Perugia, stiamo con il nostro allenatore, abbiamo fatto un mercato per lui, le cose non vanno troppo bene per errori fatti da me, da Goretti, dal tecnico e dai giocatori. Intanto le giovanili sono pronte per i tornei nazionali, programmazione ricca per la post-season, si comincia il 24 marzo a Napoli con il Vitale. Tornando alla prima squadra, del Prete Rizzo e Volta sono a riposo, ancora due o tre giorni prima di riprendere, in prova è arrivato il 22enne, centravanti serbo Basrak per Ciccerossi, fermati per un turno come da attesa. In casa Ternana adesso falletta indispensabile per la Ternana, l'uruguaiano vive l'anno della consacrazione dopo due stagioni a corrente alternata, in questo campionato ha giocato sempre, ha realizzato sette reti, è diventato un autentico beniamino dei tifosi rosso-verdi. Andiamo in serie D, Foligno sotto con la Coppa, e l'obiettivo principale parla Carletti, oggi Alfedini negli ottavi di gara secca, c'è Lassangio con Battistini a Coverciano, parla il preparatore dei portieri, se giochiamo da Falco nessun problema. È chiaro che oggi la Coppa Italia diventa il nostro obiettivo primario, argomenta l'allenatore dei portieri Biancazzurri, perché siamo ristaccati dalla vetta in campionato, comunque noi della Coppa Italia ci abbiamo sempre puntato. Detto del Gualdo Casacastalda, via Moroni dopo Bocchini, si dimette anche il DT, carica che passa a Gaiardini, intanto si lavora la scelta del nuovo allenatore, escluso il ritorno di Manuelli. Presentati tutti gli scenari sul nome del prescelto, difficile fare ipotesi, al momento sono esclusi il ritorno di Manuelli, la candidatura di Balducci, ancora sotto contratto fino a giugno con la Ponte Vecchio. Ribaltone di giornata, ieri è stato a Città di Castello, si dimette Cerbella, ecco Fiorucci, il nuovo tecnico ha detto, è un onore allenare la squadra della mia città, forse Cerbella, scrive il Corriere dell'Umbria, aveva scoperto che c'era stato un primo confronto tra società e Silvano Fiorucci, da tutto l'ambiente tifernato è conosciuto come Tamba, poi trasformato nella mattinata di ieri, in accordo pieno, dopo appunto che erano arrivate le dimissioni di Cerbella. Cambio anche la Massese, via Tazzola, al suo posto c'è Sergio Battistini, per la cronaca, la Juniore Sagredita, ha fatto notizia a questo episodio, ebbene la volontà a Saspoleto non fa denuncia, dopo i fatti di Grosseto, prende la parola il patron Ciambottini, ma pretendiamo le scuse ufficiali. Il Gubbio, il Gubbio che ora vola, nel girone di ritorno è primo in classifica, infatti ha fatto più punti della capolista Gavorrano, 18 contro 17, e del Ghivizzano, ma ricordiamo che il Ghivizzano ha una partita in meno, intanto come abbiamo visto domani, la visita ai bambini, tifosi del Chianelli, con in testa il presidente Sauro Notari, sarà presente alla Residence Daniele Chianelli, sarà una domenica importante, sia per l'eccellenza che per la promozione, in eccellenza verso il Big Match, Trestina Subasio, lotta di classe, derby in quinta Dilex del match orecchiuto, è compagno di banco dell'Alto Tiberino Mariani, la partita è già iniziata a scuola, e è da lunedì che non ci parliamo più. Per la Coppa Italia di Lettanti, Ventinella all'esame del Fabriano Cerreto, Farsi dice il momento più delicato per noi, questo per il calcio, la palla a volo, palla evangelisti su di giri per la Sir Safeti, siccome ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, per il match di Coppa Cev con Mosca, con questo noi concludiamo il nostro appuntamento, con l'informazione di TRG Mattino, ovviamente tutti gli aggiornamenti nel portale, trgmedia.it, vi ricordo anche gli appuntamenti ogni ora, a partire dalle 10 su RGM, con RGM Flash alle 18.30, il notiziario su TRG, TRG Plus e poi dalle 19.00. I nostri telegiornali, grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di TRG. Grazie a tutti.